Un vuoto per i parrocchiani della chiesa San Domenico Savio, un vuoto per l'intera comunità gelese. Si è spento la scorsa notte Don Lillo Di Gregorio, 87 anni, figura storica del clero locale. Le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano aggravate. Era ricoverato in terapia intensiva al reparto di medicina dell'ospedale Vittorio Emanuele, a seguito di un ictus che lo aveva colpito lunedì scorso. Don Lillo Di Gregorio era a Gera dal 1982. Chi non conosceva Don Lillo lo può ricordare come il suo carattere caritativo, è un po' sempre disponibile con tutti, specialmente per gli ammalati e per i poveri. Cosa le ha dato Don Lillo? Cosa ha dato Don Lillo alla comunità? Ha dato quelle che danno tutti i sacerdoti, principalmente Don Lillo ha dato che si è trovato sempre insieme ai parrocchiani, ha cresciuto dei giovani, principalmente come il mio figlio Don Tonino, Romano, Don Rocco Quattrocchi, qui presente Rosario Ciacqua, magari appartiene ad un'altra comunità, Paolo Buttiglieri, Don Raimondo Giammusso. Questo ha dato Don Lillo alla nostra comunità. È stato il padre di tutti i sacerdoti. Il padre di tutti. I funerali di Don Lillo di Gregorio si trarranno lunedì prossimo alle 16 al Paladon Bosco, nella sua casa. Si chiude un libro per la nostra chiesa di Gela ed è proprio grazie a Don Lillo, il quale appunto si è sempre battuto per la causa dei poveri, il quale appunto si è sempre prodigato per i giovani, per le vocazioni sacerdotali, e tra questi appunto ci sono anch'io. Io da quando avevo dieci anni, da quando ero così piccolo, mi ha saputo crescere, mi ha dato quello che è necessario per poter crescere da un punto di vista vocazionale. Io oggi sono qui sacerdote e grazie proprio a lui.